Senza Bavaglio, informazione libera, sempre. Agli arresti domiciliari il presidente della regione, Marcello Pittella. Un sistema di corruttela, di intrecci tra potere politico e sanità, favoritismi, raccomandazioni che hanno determinato questo e questi provvedimenti giudiziari. Facciamo una premessa. Io sono garantista e quindi ovviamente fino al terzo grado, fino a che la sentenza non è definitiva, c'è la presunzione di non colpevolezza. Però dobbiamo dar comunque atto a quanto scritto dagli inquirenti. E se noi leggiamo le parole del GIP rimaniamo davvero tramortiti. Proprio perché si fa riferimento ad un sistema, ad un modus operandi davvero spregiudicato, in barba ad ogni forma di minimo rispetto verso la meritocrazia. Vi faremo sentire, vi leggeremo le parole testuali, le parole del GIP che fotografano appieno questo sistema. Le indagini sono partite circa un anno e mezzo fa dall'esposto di un dipendente della cooperativa Croceverde Materana che denunciava delle irregolarità contributive. Ma poi, come dire, questa era solo la punta di un iceberg perché poi una volta che si è scoperchiato questo vaso di Pandora è uscito di tutto di più. E infatti, ora voglio citare proprio le affermazioni, le espressioni del GIP, il quale parla di un sistema, proprio testualmente, di un sistema di corruzione e asservimento della funzione pubblica a interessi di parte di singoli malversatori, su richiesta di una moltitudine di questuanti, i quali sono l'espressione di pubblici poteri apicali che si interfacciano tra loro in uno scambio reciproco di richieste illegittime e promesse o dazioni in debite. Siamo in presenza di concorsi letteralmente truccati e, come vedete, le parole sono inequivocabili. Si parla di uno scambio pericoloso, di un sistema in cui il potere politico, come una piovra, entrava a gamba tesa sulla gestione delle ASD e quindi manipolava anche, ovviamente, gli esiti dei concorsi. Assistiamo a situazioni assurde, incredibili, dove situazioni in cui da un lato venivano distrutti i verbali degli esami sostenuti che riportavano appunto punteggi bassissimi tali da non consentire il superamento, la vincita del concorso. Ma soprattutto, dicevo, quindi c'era da un lato la distruzione dei verbali, quelli che riportavano, come detto, risultati scadenti e dall'altro la creazione ex novo di nuovi verbali, creazione di verbali ideologicamente falsi e distruzione di verbali con i punteggi effettivamente conseguiti dai candidati raccomandati e quindi con la complicità del segretario. Si tratta di situazioni particolarissime. Vediamo addirittura, c'era una cosiddetta lista del presidente in cui praticamente i nomi dei raccomandati venivano indicati, venivano sottolineati con una penna verde, venivano tratteggiati in verde. Era questo il sistema di riconoscimento attraverso il quale si indicava chiaramente che quel soggetto, nonostante l'esito schifoso, passatemi l'espressione dell'esame, doveva andare avanti. Stando alle indagini, questa lista non veniva redatta direttamente dal presidente Pittella, ma si serviva appunto di una dirigente, della presidente della commissione Maria Benedetto e parleremo di Maria Benedetto fra poco. Parliamo appunto di vari concorsi, tra cui in particolar modo il concorso per un posto a tempo indeterminato da dirigente amministrativo. Ma voglio proprio menzionarvi, voglio riportarvi le parole di questa presidente della commissione, la quale avverte uno scrupolo di coscienza e dice ma io posso far andare avanti delle capre, dei soggetti assolutamente incapaci, delle nullità, posso far vincere a loro il concorso e penalizzare invece chi con sacrificio merita? Ora leggiamo, riportiamo le sue parole. Io per fare questa cosa, lei ha una crisi di coscienza, si sente male a dover rispettare questi ordini, queste disposizioni certamente frutto di menti criminali. Io per fare questa cosa sto malissimo, ma come una sorella mi devi credere, non ci dormo la notte, io preferisco premiare un poveretto che almeno studia qualcosa e la supera, ma che viene preso e quello lo bocciamo, mi sento un verme. E' Maria Benedetto, direttore amministrativo della ASM, la quale appunto, presidente della commissione esaminatrice, dice ma è possibile che io devo fare questo? E quindi fa riferimento alla lista verde, alla lista dei raccomandati del presidente e lei si sfuga. Nessuno dei verdi, tutti i raccomandati, hanno fatto tutti schifo, guarda è vomitevole, ma dimmi tu come faccio io? Pure i vescovi ci si mettono, quindi evidentemente c'erano anche dei vescovi di mezzo. E questa dirigente in effetti si sente in colpa, dice ma io posso macchiarmi la coscienza attraverso questa condotta? Lo ripeto, stiamo parlando di un'inchiesta che ha portato due persone in carcere, Pietro V, commissario ASM Matera, e appunto questa Maria Benedetto, direttore amministrativo ASM Matera. E poi altre 20 persone, tra cui Marcello Pittella, governatore della Basilicata, ai domiciliari. E poi 8 persone hanno avuto l'obbligo di dimora. Varie le accuse, i capi di imputazione, abuso di ufficio, falso ideologico per soppressione, truffa aggravata, turbativa d'asta, corruzione. Voglio dire, io sono un garantista, però, signori cari, nel momento in cui ci sono queste affermazioni, nel momento in cui noi abbiamo queste frasi, queste intercettazioni, signori cari, c'è poco da fare e c'è poco da dire. Certo, dovranno essere celebrati i processi, però la situazione penso che sia abbastanza chiara. Ora capite, perché io non credo nei concorsi pubblici, il 90% dei concorsi pubblici è truccato. Ci sono dei casi sporadici, in cui qualche persona che merita emerge, ma nel 90% dei casi vanno avanti gli amici degli amici. Io credo più nel privato che nel pubblico, perché nel privato, se io valgo, vengo assunto, perché l'imprenditore privato ha bisogno di una persona capace, non di un deficiente raccomandato. Perché poi si sa, nel pubblico paga pantalone e quindi il dirigente o è capace o è incapace, poco cambia. Anzi, più è incapace, più è raccomandato e più può essere sottomesso. Perché la piovra del potere politico dice, bello mio, tu ti trovi qui dentro grazie a me e devi fare solo quello che ti dico io. Questa è la realtà. Ecco perché poi, vedete, assistiamo alla fuga dei cervelli, assistiamo a tanti giovani che prendono la valigia e vanno all'estero, perché in Italia purtroppo vengono umiliati e per questo noi assistiamo in Italia purtroppo all'antipolitica, alle cosiddette derive populiste, pregne di demagogia, perché purtroppo i risultati sono questi. Salvo poi vedere che queste svolte populiste si rivelano il rimedio peggiore del male. Però quando si assiste a questo sistema, a questa rete, io dico incancrenita, a questa piovra, dove i tentacoli della politica avviluppano tutto e tutti, è chiaro che nel cittadino subentra la sfiducia, subentra anche il non voto. E io sono uno di questi, ve lo confesso apertamente. Sono uno che da 4-5 anni non va più a votare. Non sono andato a votare neanche alle ultime politiche, perché poi tanto. Dobbiamo generalizzare? Ma generalizziamo. Fanno tutti schifo, chi più e chi meno. Guardate un po' la situazione, queste affermazioni, c'è da rabbrividire. E tanti figli di mamma sostengono spese per andare a Roma a fare un concorso, spese di viaggio, spese di albergo. Perché cosa? Per essere presi per il culo? Perché tanto, come si vede qui, c'era la lista verde, la lista dei raccomandati. Allora tu sai che Pinco Pallino è amico del presidente Pittella e deve andare avanti. E se l'esame si è rivelato fallimentare, poco interessa, poco importa. Tanto falsifichiamo i verbali e andiamo avanti. E mettiamo ai posti che contano gli amici degli amici. Questa è l'Italia. E vi dico, quando questa gente marcisce in galera, io godo. Anzi, sapete che farei? Li chiuderei dentro e butterei pure la chiave. Perché stiamo parlando di creare una nuova classe dirigente. Non di incapaci raccomandati. Che giustizia sia fatta, anche e soprattutto nei confronti del presidente Pittella. Senza bavaglio. Informazione libera. Sempre.